La delusione è grande anche perché cambiare le regole del gioco quando il gioco è iniziato pensa che non sia mai opportuno. E il commento del presidente del Lancio Abruzzo, Antonio Odentino, sulle nuove disposizioni previste dal governo per contrastare le frodi del settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Eliminata dunque la facoltà di successiva cessione del credito, sia che si operi con sconto in fattura che senza, il credito potrà essere ceduto una sola volta. Nel caso si operi con la cessione diretta da parte del contribuente, anche in questo caso poi non sarà più possibile cedere nuovamente il credito fiscale. Le nuove imbarazzanti misure varate dal governo non serviranno per evitare le frodi, prosegue Lance, ma saranno utili solo per frenare una ripresa straordinaria. In Italia al 31 dicembre 2021 si registra un boom di oltre 90.000 cantieri per circa 17,8 miliardi di euro di detrazioni ammesse e lavori conclusi per un valore di oltre 11 miliardi. Stiamo parlando di oltre l'1% del PIL, il 4% con i settori collegati. In Abruzzo al 31 dicembre si rilevano 2.500 interventi con 555 milioni di euro di lavoro ammessi a detrazione e 347 milioni di investimenti per lavori conclusi. Si fa tanto parlare che l'anno scorso l'Italia è riuscita a fare sei punti di PIL, non ci dimentichiamo che soltanto l'eco bonus ha dato più di un punto di PIL direttamente e forse altri due con l'indotto. Quindi è una misura molto molto importante. Misure pericolose perché hanno generato una moneta di scambio virtuale che senza gli opportuni controlli avrebbe creato non pochi problemi alle casse dello Stato, come in effetti è accaduto a seguito delle numerose frodi scoperte. Basterebbe andare soltanto a controllare i cantieri che sono partiti e che ci sono gli stati di avanzamento dei lavori prima di erogare. Facendo così non ci sarebbero le frodi. Le frodi sono soltanto per i cantieri fantasma, i cantieri inesistenti. Noi auspichiamo e abbiamo anche delle promesse che questo provvedimento verrà rivisto adesso in sede di approvazione parlamentare e ci saranno delle modifiche. Certo non saranno modifiche che molto probabilmente riporteranno alla cessione n volte come era prima ma sicuramente ci saranno dei correttivi che fanno essere la cosa più positiva.